Ciao ragazzi! Ma sapete dove siamo? Siamo nel nuovo centro secco di Vanessa e Anastasia Oggi siamo qui perché finalmente sono arrivate che cosa? Le nostre unghie di Vanessa e Anastasia Guardate sono bellissime ma qua dentro ci sono le unghie personalizzate che non mi diciamo il colore ma lo vedrete nel video La lampada e poi la lima Oggi avremo due clienti che verranno qua a farsi le unghie E il massazzo perché noi siamo un vero centro estetico Queste due ragazze sono una è una mia compagna e l'altra è una mia compagna Allora non mi diciamo il nome e poi ve lo faremo dire da loro Scrivete nei commenti chi pensate di siano Oh no che tanzacchia arrivano Ah che bello, che bello, sembra che sono sono gonfiabili al mare Vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo Allora, veloce perché magari si arrivano E qua abbiamo degli sticker che magari la mia compagna vuole mettere sulle unghie Vi dico solo una cosa, ha un gatto e un cane magari Non lo so, l'abbiamo già letto E poi qua abbiamo trucchi Se magari lei si vuole truccare Sì, e qua ci sono i cetronellini che sono compresi nel trancamento che Anastasia farà alla sua compagna E guardate queste Sì Questa è sempre compresa nel trancamento Guardate Sì, che sono sopra all'occhio Questa bellissima Abbiamo questo profumo buonissimo che è mio E magari questo lo posso anche mettere sulla mia compagna Questa è una storia per il trattamento del corpo Certo Invece queste sono le maschere del viso che metterà la mia compagna Bellissime Poi abbiamo qua dei trucchi bellissimi Per finire questo che ci sono i rossetti bellissimi E anche un pennello bellissimo Io ho compresa E ragazzi, questo trattamento che facciamo alle nostre compagne La mia, quella di Vanessa Lo potete acquistare anche voi E poi è bellissima Perché ci sono le unghie Dentro Ve le potete fare Se avete una sorellina piccola Le potete fare anche alla vostra mamma E le trovate sul sito Vanipiglo.shop Mi raccomando, acquistateli Oh, hanno bussato Giulia, non vedo l'ora di vedere le nuove unghie di Vanessa e di Anastasia Anch'io Speriamo che si muovano ad aprirci Sì, sono i gatti Sì, sono i gatti Sì, sono i gatti Ciao Ciao Ciao, possiamo entrare? No Dai, stiamo scherzando Venite Ecco a voi il nostro sito e stick Wow, che bello Io sono curiosissima di vedere le vostre unghie Dai, per favore Fatemele provare Wow Io voglio straigliarmi qua Tu non ti preoccupare Che tanto da adesso ci penso io a te Ok Giada Guarda, adesso tu dovrai scegliere il tuo colore Questa è la scatola personalizzata di Vanessa e Anastasia Ok Voilà Queste sono fatte così Poi ci sono queste qua rosa Semplici Poi abbiamo queste qua così E queste qua bianche Ok E questa che cos'è? La lampada La lampada per asciugare le miglie Giada, quale preferisci? Quelle bianche Ok, va bene Giulia, invece per te è un trattamento molto speciale Allora, la maschera Per il viso I cetrolini da mettere sotto all'occhio Wow, quando riuscirò da qui sarà bellissima Giulia, togiti le scarpe E traviati Adesso resta così Ora apriamo Apriamo E prendiamo Giulia stecana Non è l'unico Allora Giulia Ma che non è l'unico Non Giulia Apri gli occhi Puoi aprire gli occhi Ah no Non ci vedo niente Adesso lo vedo Non vedo niente Risa, rilassati Giulia, rilassati E agisco Ok Allora 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 Gli devi guardare il sacchettino Giada, per te è la prima volta che fai le unghie fitte? Sì, sì È la prima volta Ok Allora, ecco Bene Metti la tua mano qua Ok Bene Dommi la tua mano Ok Tagliamo Allora Ok Una Adesso metto io Ah Adesso Due Adesso mettiamo la maschera Ma sono al contrario Mettila a posto Ok Allora No No Diciamo questo E di qua Dommi la mano Con il pollice Quindi il pollice Secondo me è più bene questo Con questo applicatore Te lo scherzo Ok Adesso Dobbiamo tagliare la lunghezza Dobbiamo tagliare la lunghezza Ok Adesso Stai ferma Dopo Una maschera Poi ti metto la crema Dopo la crema Cosa vorrai Questo O questo Ricci di te Guarda Queste due O queste due Così Così? In questo modo Dopo te le metto così Va bene Già da così finita la prima mano E poi la mettiamo sotto la lampada Si secca E limiamo Ok Adesso dobbiamo tagliare l'ultimo E poi mettiamo sotto la lampada Sei felice di tornare a scuola? Allora Adesso Se schiacciamo una volta sola Sono 60 secondi Invece se segniamo premuto Sono 120 secondi Quindi lasciamo così E tanto In piega Sono passati 10 minuti Togliamo la maschera Ok Come ti senti? Bene Ok Fresca con quella maschera Era troppo fresca Eh Eh Lo so Mettiamo la crema Tira indietro i capelli Tieni la un attimo E la spazziamo tutta Wow Le guance Tutta fresca Adesso sei tutta fresca Allora Giada Sei pronta? Adesso dimmiamo È quasi finito Ok E poi mettiamo ancora 110 minuti Nella lampada Abbiamo finito E facciamo l'altra mano Ok Dopo questo Non è che ci prendiamo Qualcosa da avere Che chiamano la cameriera Hanno detto che è nuova Va bene? Va bene Ok Va bene Hai visto come si sono Anche indurite Perfettamente Con la lampada Sì sì Vero sono bellissime Sì Aspetta Ti piace Fai questa così Ok fai così Te la fai pronta? No Ora Ma cosa state facendo? Sì sì Ciao Poi mi ha messo la maschera Sì sì Quella al marshmallow Che mi ha fatto Quella è quella rosa Poi le guardiamo insieme Sì 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 hai tolto la maschera? sei bagnatissima! bella guarda se tocca il capo si sei bella insomma qui abbiamo il riposo della guerriera perché è stanca e vuoi un massaggino? di la verità vuoi un bel massaggino buongiorno! ci sei? buongiorno! ciao! e tu chi sei Giulia? magari la cameriera sono Giosalea la cameriera più bella che ci sia sei bellissima! veronissima! ciao! tu che sei? Giada! ho sentito già parlare di te! avete sette bambini? si grazie! ma sono avvelenati? ma ditemi una cosa sono bella? si! è bellissima! vuoi bacino? che sei dolce! questa ragazza è coraggiosa! molto coraggiosa! che sei dolce! che sei dolce! tu chi sei? che sei sto coso nero? ti vuole un'estate? io! io! a parmigiana la sto preparando eh! a parmigiana! non sai cos'è la parmigiana? ma come? ma tu che cosa ti mangi a casa tu? che cosa ti mangi? le nocciolire? come si? dammi il numero di tua mamma! dammi subito il numero di tua mamma! che ci faccio fare la parmigiana stasera! la vuoi la parmigiana? no! guarda che la parmigiana è buona! è fatta con le melanzane, con il pomodoro, la mozzarella! ma chi è? ma chi è? sei tu! sei tu! sei tu! io lo so! sei tu! devi darmi l'estate! no! 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 che lei è il dolce! madonna che te bellino! mi stupacetto! mamma mia! vuoi pure il tupacetto? no no! secondo me si! no! secondo me lo vuoi! no! vedi? giochiamo al nascondino! giochiamo al nascondino! giochiamo al nascondino! nascondino! cucù! non ti vedo! dove sei? mo l'abbio! dove vai? dove vai? dammi l'estate buona! allora bambine! non sono brava e soprattutto bella! ma se mi scuro ci diventa una morella! hai capito? dammi l'estate buona! Dammi il numero di tua mamma, dammi il numero di tua mamma, ignorante, non lo sai, vabbè allora, è meglio che sei dolce, la mia preferita sei tu, tu sei la mia preferita, tu sei stanca, dove vai? Madonna con questo l'occhietto sei stanca, ma perché scappi, non scappare, eh no, è stanca, è ritmosa, è brutta, che ti faccio un massaggino, girati, 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 ti metto quel massaggino, non devo fare nessuno, che c'è? Ero solo un pochino, allora, massaggino qua e là, ho finito tra la la, accosta, adesso non sei più stanca, hai visto? Sono 50 euro, grazie, grazie, grazie a te, dammi, noi siamo quelli che dobbiamo fare il massaggio, ma che no? Perché io no? Non ho capito, scusami, qual è il tuo problema, spiegamelo, guarda che io se voglio mi faccio tutti i massaggi che voglio, hai capito? No, perché non serve del nostro negozio? Brutta, 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 brutta Giulietta, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, brutta, io so il tuo dialetto napoletano, giusto? No, ascolta, bruttissimissima, brutta, 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 vento, sì, sono veneta, si sente che sono veneta? No, siciliana, no, siciliana, c'è qualcosa contro i siciliane? No, 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 abbiamo un cannolo più buono del mondo noi, eh? Va bene, adesso io me ne devo andare, che mi chiama il padrone che devo andare a lavorare, ma dopo torno, eh? Dopo, sicuro che torno, no, non tornare, 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 ma quanto sono sguaiate sti bambini, io vado, ciao, un bacio a tutti da Josalia la più bella che ci sia, ciao bambini, dopo vuoi mi tornare? Vai cammino a cammino, vieni un attimo, senti la papà, dopo vuoi tornare, scusa? Sì, dopo. Ciao, ciao. Allora, bimbe, ma è venuta Rosalia a portarvi da bere, che gli ho detto di portarvi da bere? Sì. Ah, carina, vero? Molto. cosa ha fatto? Sì, sì, lei ha questa, cosa ha fatto? Ti ha sporcato, eh, vabbè, lei ha questa passione per i rossetti, poverina, crede di metterli anche bene, però, vabbè, poverina, ma è brava, fa una parmigiana che è la fine del mondo. Ah, ecco perché parla parmigiana. Allora, abbiamo concluso questo video bellissimo, vi è piaciuto il centro estetico di Vanessa e Anastasia? Ti sei divertita Giulia? Eh, ti è piaciuto il nostro nuovo centro estetico? Bene, dovete pagare, dovete, eh sì, qua si paga ragazzi, eh, c'è da pagare, eh, cosa pensavate che era gratuito? Esatto. Ok, allora, quindi, tuo massaggio, maschera, 5 euro, più, eh, cetriolini, 10, più cosa ha fatto? Lei la vibrina, 5 euro, 30 soldi, vale 6, ok, grazie mille, sì. Perfetto, quindi lei mi ha pagato il giusto e non gli devo dare il resto. Scontrino, però, sì, sembra uno scontrino di Vanessa e Anastasia. Perfetto, prossima. Ok, tu cosa hai fatto? Eh, non lo so, il trattamento alle mani. Ok, quindi, allora, 10, la lima e poi fatto le impagni, 1, 2, 5, più, eh, gli sticchessi, 5, 5, più le state, le state, le state, più le state. 20 euro, ma sono stati 10 centipi di mani. Sì, ma è stato. Ok, è stato. Grazie. Ok, quindi avete fatto... Bezza, lo scontrino. Oh, scusa, che se c'è la finanza qua fuori, siamo rovinati e chiudiamo subito. Va bene, cuccioline, cuccioline, allora, questo video termina qua, con la Giulie che si sta bevendo tutto l'estate, altro setto di Giosalia. Cuccioline, cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! E' arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Papbo Natale, non ci vedo niente di male. Sì, presto Anastasia, corriamo giù. Ma non ci vedo niente di male.